Bene, percorso duro, mancati un po' in finale forse. Cosa vuol dire? Mancato la squadra, mancato la squadra? La squadra alla fine è lavorato bene, abbiamo trovato avversari superiori sicuramente in finale. Comunque fino a due giri alla fine, anche in giro, eravamo compatti, abbiamo coperto bene la sua fuga, eravamo davanti in quattro, quindi secondo me la gara è interpretata bene. Ci credevi che potesse arrivare quando fuga la domenica? Stai raccogliendo in quelle radio, Tezio? No, perché sicuramente non collaboravano, ci tiravamo soltanto noi italiani, finché avevamo Visconti e Scarponi. Poi una volta perso loro si andavano avanti a scatti e quindi nonostante Pone avesse tre compagni non tiravano. Pone avesse tre compagni e non tiravano. Non siamo contentissimi. I vifere in tre non tiravano, però purtroppo il peso è stato difficile come gara perché si è messa... Sembiamo!